Salve e bentrovati a quest'edizione del nostro giornale. Oggi lutto cittadino e nel pomeriggio i funerali dei due operai morti al Versalice. Bandiera a mezz'asta oggi è sospensione delle attività siracuse a Melilli, due centri accomunati nel lutto per la morte degli operai Michele Assente e Salvatore Pizzolo, deceduti una settimana dietro a causa dell'incidente sul lavoro mentre stavano eseguendo un intervento di manutenzione al pozzetto di ispezione della rete fognaria dello stabilimento Versalice di Priolo. I sindaci Giancarlo Garozzo e Giuseppe Cannata hanno proclamato il lutto cittadino per quest'oggi con l'esposizione negli edifici pubblici delle bandiere a mezz'asta e la sospensione di tutte le attività e le manifestazioni in programma. Nell'ordinanza i due sindaci invitano i cittadini a esprimere la loro partecipazione mediante la sospensione dell'attività in segno di rispetto e raccoglimento durante i funerali con esclusione dei servizi indispensabili e obbligatori. Anche la seduta del Consiglio Comunale di Siracusa ha fissato per questa sera è slittata in segno di lutto a data da destinarsi. Anche il Consiglio Comunale in programma domani è stato rinviato a data da destinarsi. Il rito funebre per Assente è previsto per questo pomeriggio alle ore 16 alla chiesa di Santa Rita, mentre quello dell'amico e collega di lavoro è stato fissato per le 17.30 alla chiesa di San Sebastiano a Melilli. Proprio per la coincidenza dei funerali è stata rinviata la riunione programmata per questo pomeriggio in prefettura per affrontare il nodo della sicurezza negli stabilimenti della zona industriale siracusana. Il prefetto Armando Gradone aveva manifestato interesse a partecipare a entrambi i funerali che coincidono con la convocazione del Vertice. La nuova convocazione è per giovedì prossimo. A quella riunione sono stati invitati a partecipare i rappresentanti di Confindustria Siracusa, delle committenti, le organizzazioni sindacali, l'ASP 8 e l'ispettorato del lavoro. Intanto a Priolo Gargallo il sindaco per parlare di sicurezza nella zona industriale ha convocato sindacati e sindaci. Il tema della sicurezza nel polo petrolchimico siracusano al centro del Vertice di domani mattina al comune di Priolo al fine di varare una commissione di controllo permanente sui cantieri del petrolchimico. Parteciperanno le forze sindacali, gli amministratori di Priolo, Melili e Augusta, i rappresentanti dei territori su cui insiste il polo petrolchimico. Alla vigilia dell'incontro il sindaco di Priolo, Antonello Rizza, promotore dell'iniziativa, parla di un punto di non ritorno affermando che in futuro tutto deve cambiare perché nella zona industriale non si vivano più le terribili giornate di lutto appena trascorse. Riflettori puntati anche sulle ditte appaltatrici che secondo il primo cittadino troppo spesso, pur di aggiudicarsi una gara, riducono all'osso i preventivi per poi effettuare i lavori cercando di spendere il meno possibile per non chiudere il bilancio in rosso, tagliando anche dove non si può e non si deve risparmiare la sicurezza. La vicenda di Eligia, sono in arrivo i carabinieri del RIS di Messina per indagare sulla morte della donna. Saranno i carabinieri del RIS di Messina a entrare nei prossimi giorni nell'appartamento di Via Calatabiana in cui vis Eligia Ardita, la 35enne infermiera morta in circostanze tutt'oggi al vaglio della magistratura siracusana la sera del 19 gennaio scorso insieme con la figlioletta che aveva in grembo. Gli esperti del reparto investigazioni scientifiche avranno modo di scandagliare la scena del crimine e il compito di fare rilevare anche le più microscopiche tracce organiche o altro. Il caso di Eligia intanto è stato affrontato ieri alla trasmissione mattina 5. Stavolta in studio c'era l'avvocato Aldo Scuderi, legale difensore di Cristian Leonardi, il marito della vittima. Questo è ribadito alla volontà del proprio assistito, unica persona iscritta al registro degli indagati, a collaborare con la magistratura. Il penalista ha poi replicato a quanto nella precedente puntata della stessa popolare trasmissione avevano riferito i familiari di Eligia, ribattendo che il marito sia rimasto in ospedale la notte del ricovero della moglie e quindi di non essersi recato con urgenza a casa, preoccupato di nascondere qualcosa. Dubbi sono stati sollevati dal criminologo Massimo Picozzi sull'opportunità di eseguire i rilevi scientifici a casa della vittima otto mesi dopo l'evento. Ma per la famiglia di Eligia Ardita, quello fatto dalla procura di Siracusa, è comunque un passo avanti, importante nelle indagini, ai fini di stabilire quale sia la verità sulla morte della loro congiunta e chiarezza sulle responsabilità. Partono i lavori per l'installazione dei cosiddetti semafori intelligenti per le vie di Siracusa, si parte da Viale Santa Panagia. Partono oggi le installazioni dei nuovi semafori a Siracusa, questa è la prima parte dei lavori che si sta svolgendo tra Santa Panagia, Viale Teracati e poi Viale Zecchino, partiranno da qua i lavori e l'installazione è quella che riguarda dei semafori cosiddetti intelligenti. Perché intelligenti? Perché riguardo al semaforo classico, quello che abitualmente noi troviamo agli incrocio per le strade di Siracusa, questi nuovi semafori opereranno una serie di operazioni sicuramente innovative, solamente per capirci, in alcuni casi riescono attraverso anche delle telecamerine posizionate nei pressi del semaforo a valutare la mole di traffico di macchine in arrivo e anche quindi a calcolare il genere di rosso, verde o altre segnalazioni da dare agli automezzi e agli automobilisti. Non solo, c'è anche un altro esempio che racconta ancora di più di quanto l'appellativo di semafori intelligenti sia utile nel caso in cui ci sia l'arrivo, e tutti sappiamo cosa succede in quei casi, l'arrivo di un'ambulanza, il semaforo con la sua telecamerina si comporterà di conseguenza, quindi inizierà a dare disposizioni alle automobili, agli automobilisti perché si dispongano diversamente sulla strada o a rallentare alcuni flussi proprio perché ha avuto segnalazione e visione dell'arrivo di un'ambulanza. Questo è il primo tratto della strada dove si stanno installando i semafori per poi continuare, il secondo dovrebbe essere installato invece in fondo a Santa Managia all'incrocio con via Catalabbiano nei pressi del mercatino, lì ci sarà l'installazione del secondo e poi via via nei luoghi prescelti all'interno della rete viaria di Siracusa. Fermiamo, c'è la pubblicità per qualche minuto, ci vediamo tra poco. Entra nel mondo Gemar Questa settimana in offerta Mozzarella panetto per pizza Granarolo 2,15€ Formaggio galbanino 270g 1,79€ 18 bastoncini di berluzzo Findus 2,95€ Yogurt parmalat 0,1% intero 8 vasetti 1,98€ Detersivo piatti l'asta al limone 94 centesimi Cerca il punto vendita più vicino a te! Supermercati Gemar Nel reparto abbigliamento, sconti del 70% Fermati nei bar dove vedi questo marchio Scopri il segreto dell'aroma Tropical Caffè Realizza i tuoi progetti e affidati alla competenza Proposta imbarcazioni nuovo e usato garantito Pontili galleggianti e accessori E ancora noleggio barche e canoe Mare Mania, concessionario Honda Marine Massima assistenza tecnica per motori fuori bordo ed elettronica Porta il tuo usato e al resto ci pensiamo noi Mare Mania è anche circolo nautico Composti barca e comodo scalo a mare Esposizione imbarcazioni piazzale via Columba Angolo Via Lorina, circolo nautico Via Lorina 95D Vivi il tuo mare con Nautica GLG Mare Mania All'interno dello spazio espositivo Special Food, tutto alla brace Gusta un buon panino e puoi visitare le nostre barche Fino a tardanotte Bentornati, seconda parte del nostro telegiornale Capriamo con la cronaca con interventi dei carabinieri Primi a noto, approfittando dell'inizio dell'anno scolastico È stato arrestato in fragranza di reato Un giovane, 25 anni, per detenzione di sostanze stupefacenti Maurizio Pomilio Era stato notato nei pressi della fermata dell'autobus Non essendo un volto conosciuto I carabinieri l'hanno seguito Hanno visto dove si fermasse il pullman Arrivati a noto è scattata la perquisizione Che ha fatto trovare addosso alla persona 40 grammi di hashish in stecchette Il giovane è stato sottoposto agli arresti domiciliari Ancora a Priolo I carabinieri hanno notificato due informazioni di garanzia Emessa dalla Procura della Repubblica Nei confronti dell'amministratore delegato E del responsabile del servizio di prevenzione e protezione Della ditta Coemi Indagati per l'ipotesi di omicidio colposo aggravato Vediamo quanto è avvenuto l'11 settembre Quando un cancello è caduto addosso a un operario Uccidendolo A Lentini ancora Operazioni dei carabinieri Della compagnia di Augusta Per il controllo del territorio Nel pomeriggio di ieri Esecuzione dell'ordine di carcerazione Emesso dalla Procura di Ascoli Piceno Nei confronti di un 57enne Originario di Napoli Per il provvedimento Un uomo deve scontare adesso Una pena di 5 anni e 9 mesi Di reclusione Per dei fatti commessi nel 2006 E ancora nel corso di servizi Coordinati di controllo Per quanto riguarda la compagnia di Augusta I carabinieri hanno deferito In stato di libertà Per ricettazione Un 32enne agustano Nella sua attività di rimessaggio nautico I militari hanno individuato Un'imbarcazione in vetro resina Di 7 metri Rubata a Lugio Presso una rivendita di barche A Siracusa Torniamo a parlare Dei delitti di Cassibile Giovedì L'apertura del plico Con i reperti Sarà aperto giovedì mattina Il plico contenente I reperti balistici Che saranno oggetto Di una superperizia Disposta dalla Corte d'Assise D'Appello di Catania Nell'ambito del processo Di secondo grado A carico di Giuseppe Raeli Il pensionato Cassibilese Di 74 anni Condannato nel luglio Dello scorso anno Alla pena dell'ergastolo Perché riconosciuto Colpevole di 6 omicidi E di 2 tentati omicidi Avvenuti tra Avola Cassibile Fontane Bianche Tra il 1998 E il 2009 Il plico Cusodito All'ufficio Corpi di Reato Del Tribunale di Siracusa Contiene bossoli E proiettili Sequestrati nel corso degli anni Dagli investigatori Che hanno indagato Sulla lunga scia di sangue A Cassibile Si tratta di reperti Che sono già stati oggetto Di esame balistico Da parte di consulenti Tecnici della procura Della Repubblica Aretusea E della difesa Nella fase delle indagini E poi fonte di prova In dibattimento All'apertura delle plico E alla successiva consegna Dei reperti Saranno presenti Il PM Antonio Nicastro I rappresentanti legali Della difesa Il professore Guido Ziccone E gli avvocati Gian Battista Rizza E Stefano Rametta I reperti dovranno essere analizzati Dal collegio di Periti Composto dai professori Rossitto, Gaiazzo e Limoni Ai quali i giudici Del secondo grado Hanno conferito Formale incarico All'udienza del 20 luglio scorso I consulenti tecnici Dovranno eseguire Una serie di esami balistici E di laboratorio Su proiettili e bossoli Rilevati dagli investigatori Sui luoghi di alcuni omicidi In modo da compararli Con quelli che sono stati ritrovati Nel possesso dell'imputato In particolare Una cartuccia consegnata Nel dicembre 2000 Ai carabinieri di Cassibile L'altra per fucile Rinvenuta nel corso Di una perquisizione Dei carabinieri Al garage dell'imputato Che dice di avere trovato In campagna Primi giorni di scuola Intanto Tra luce e ombre Abbiamo raccolto La voce di alcuni ragazzi E di alcuni professori Primo giorno di scuola È una scuola È un anno particolare Si è parlato molto Di buona scuola Delle proteste Degli studenti Per gli istituti Che in alcuni casi Non andrebbero bene Come state iniziando Con quale stella Stiamo iniziando piano piano Perché siamo molti In un istituto E quindi Ci distribuiamo In più istituti Il problema strutturale Della scuola Voi lo notate ancora E cambiate qualcosa? Ma no Si nota sempre di meno L'istituto Ipsia Voi pure vi siete fatti Un conto Se quest'anno Le cose miglioreranno I ragazzi spesso Si lamentano Gli istituti Un po' fatiscenti Ancora Sì È una cosa Sempre un po' difficile Perché abbiamo parlato Anche prima in classe Del fatto che Abbiamo anche Gambetti rotti Quindi è un po' difficile Praticare le lezioni Anche come educazione fisica In classe invece Come laboratori Ci siamo L'ultimo anno Ci sono state molte proteste Voi ragazzi Avete manifestato Cosa chiedete Anche quest'anno Abbiamo restato molto Soprattutto per i gambetti Perché I ragazzi Giustamente anche Cioè Dopo Tanto tempo a scuola Un po' di svago ci vuole Anche all'interno delle lezioni Io lo penso così Poi Invece Per quanto riguarda Tutto il resto Ci lamentavamo Del fatto dei termosifoni Zero Il discorso nostro È più generale È stato un anno Quello trascorso comunque Di proteste Da parte dei ragazzi C'è un punto D'unione Perché ciò che chiedono i ragazzi Poi scuola È maggiormente sicura È una cosa che è Un interesse anche di voi Insegnanti Certo I problemi Diciamo Li abbiamo messi in evidenza L'anno scorso Non è che sono stati risolti tutti Però Come dire Bisognerebbe trovare sempre Un punto democratico E poter sederci a tavola E discutere Senza imporre niente Se è vero che la scuola È iniziata diversa A partire dalla base Io ricordo Ero tra i collaboratori Del Del presso del capuccio Quando c'è stata La riforma del superiore E Si è lavorati bene Aspetta non per scadere Nel libro cuore Però con quale parole Si inizia un anno Scolastico nuovo? Ebbè certo Con una speranza Che Che possa iniziare Diversamente Dall'anno scorso Lo sport adesso Vigilia di campionato Per il Siracusa Che esordisce in casa Contro la Vibonese Domani sera Il città di Siracusa Scenderà in campo Per la terza giornata Di campionato Ospitando allo stadio Nicola De Simone La Vibonese Che guida il girone I Della Serie D A punteggio pieno Calcio d'inizio Alle 20.30 Per gli azzurri Si tratta dell'esordio Casalingo E della seconda gara Dal momento che Domenica scorsa Hanno osservato Un turno di riposo I giocatori Allenati da Lorenzo All'acqua Sono ancora Quota zero punti In classifica Domani sera Quindi Big Match Che potrebbe raccogliere Tanti tifosi allo stadio Per loro Si è aperta oggi La consegna Degli abbonamenti Da parte della società In via Torino Dai sostenitori siracusani Inoltre È arrivata la richiesta Di proporre Un minuto di silenzio Prima del calcio D'inizio Con la Vibonese In segno di lutto Per gli operai morti Nella zona industriale Sul fronte mercato Si fa sempre più probabile Intanto L'ipotesi Dell'arrivo Di Testardi Attaccante romano Già alla corte di Sottil Durante il campionato Di prima divisione Vinto sul campo Dal Siracusa Ma tornando Alla Serie D Il noto Dopo due pareggi consecutivi È impegnato In campagna Contro la Sarnese Comincia la stagione Di Serie A2 Per l'Ortigia Rosa A parte della squadra Intanto Si riunisce In queste ore Alla cittadella Dello sport Si è riunito A una prima parte Dell'Ortigia Femminile Pronta ad affrontare Il prossimo Campionato nazionale Di A2 E di Serie B Regionale In attesa di definire Gli ultimi acquisti Per la prima squadra Valentina Iale Ha voluto incontrare Le sue ragazze Per programmare L'inizio Dell'attività agonistica Che come stabilito Comincerà Lunedì 5 ottobre Tra i punti Trattati Dall'allenatrice romana C'è quello Più importante Relativo al progetto Stagionale Che prevede appunto Una squadra Impegnata Nel campionato di A2 E un'altra Che giocherà In quello regionale Se per la definitiva Composizione della rosa Di A2 Si dovrà attendere Ancora qualche giorno Per quella di Serie B Ci sarà invece La riconferma Di tutte le giovani Che nella scorsa stagione Hanno trovato Poco spazio in squadra Altro tema di discussione È stato quello Della suddivisione Degli spazi Vasca per gli allenamenti La squadra maggiore Infatti Tra palestra e nuoto Svolgerà due sessioni Di lavoro al giorno Mentre sarà previsto Un allenamento giornaliero Per la squadra di Serie B E per quella Under 15 Era l'ultimo servizio Il telegiornale si conclude Vi auguriamo Un buon prossimo Tutti i programmi Il telegiornale si conclude Il telegiornale si conclude Il telegiornale si conclude Il telegiornale si conclude Il telegiornale si conclude